Nuove norme anti-covid consentono adesso di praticare più sport all'aperto. Ecco allora qualche consiglio utile. Quante volte in questi mesi abbiamo visto persone di ogni età praticare attività sportiva anche all'aperto con la mascherina sul volto? Cosa dice in proposito la scienza? È dannosa per la salute o si può indossare tranquillamente anche durante lo sforzo fisico? Oggi sappiamo che è possibile fare sport con la mascherina senza che ciò comporti un rischio per l'atleta purché questo sia in condizioni di buona salute. La rassicurazione arriva proprio dalla scienza medica e dall'European Respiratori Journal dove è stato condotto uno studio specifico su mascherina e attività fisica. I risultati hanno dimostrato come sicuramente una persona sana può svolgere attività fisica anche ad alta intensità indossando una mascherina. Non mi sono differenze significative nemmeno indossando mascherine chirurgiche o le FFP2. Quest'ultime sicuramente restano la soluzione più sicura nella prevenzione del contagio soprattutto in ambienti indoor. A proposito di ambienti chiusi quali sono i consigli in vista della riapertura delle palestre? Il mio suggerimento è comunque di utilizzare le mascherine anche di cambiarle con una certa regolarità soprattutto considerando che l'aumento della frequenza respiratoria nonché l'effetto impregnante del sudore tendono a consumarle più velocemente. Come sempre la regola del buonsenso deve prevalere per cui alla ripresa dell'attività calibriamo i nostri sforzi, idratiamoci regolarmente e quando possibile respiriamo attraverso il naso che è il nostro filtro naturale.